Buongiorno a tutti, oggi è sabato 15 luglio, sono in ufficio anche oggi per prepararmi per la prossima settimana, per il training della prossima settimana, perché sia profittevole anche più di quello che lo è stato nella scorsa settimana. Ho la mia bella tazza pronto ad idratarmi perché fuori fa veramente un caldo pazzesco, fortunatamente qui un po' di aria condizionata c'è. Iniziamo con la prima delle analisi evolute sui cicli superiori per vedere di anticipare, come vi ho fatto vedere, i movimenti di borsa. Ok, partiamo. Prima considerazione, vi avevo fatto notare che era possibile già che questo annuale inverso, partito con tutte le condizioni corrette, si fosse già vincolato a continuazione a far salire i prezzi. Come minimo per 192 giorni, in media 256 al massimo 336, misurate nel corso di decine di anni e affinate e messe a posto quando si vedono determinate cose che possono non andare, in realtà è da un po' che non le tocco. E se siamo arrivati a 111 giorni, a che punto siamo? Siamo dentro un semestrale inverso che però è composto da primo mensile inverso, secondo mensile inverso, terzo mensile inverso e quarto mensile inverso. Siamo sull'ultimo mensile inverso, teoricamente se rimarremo con una struttura a quattro tempi. Non state capendo niente mensile, t più due, inverso, annuale inverso? Benissimo, lo dico soprattutto per i nuovi. Andate su questa playlist del mio canale, cliccate sul corso completo Trading Days e potrete fare un corso fatto da oltre 28.500 persone, completato però soltanto da 6.800 per cui soltanto chi studia con costanza in realtà otterrà dei risultati nel trading di altri continueranno ad essere degli amatori e potrete così comprendere a fondo che cosa racconto. Potete oltretutto vedere se sono un trader in gamba oppure no perché faccio video praticamente tutti i giorni ottimizzando il tempo tra un trade e l'altro e ho ne oltre 2.300 al mio attivo negli ultimi due anni, più tutto quello che potete vedere ancora su TradingView sul mio profilo. Quindi ci sono circa 6 anni e passa di video, di analisi e di quant'altro. Ricordatevi che ovviamente le prime erano delle analisi molto differenti rispetto alle attuali perché le attuali sono molto più complesse perché è cambiato tutto, è migliorato decisamente tutto ciò che riguarda il trading negli ultimi appunto 7 anni e cambia e migliora di anno in anno tra l'altro. Ma intanto basta guardare i video e lo scoprirete. Di inverso, inverso significa che i che partono da massimo fanno un minimo e poi tornano su massimi. Quindi siamo all'interno di questo semestrale che può essere arrivato al suo ultimo mensile inverso. Questo mensile inverso si è vincolato a ribasso, ovvero ossia a continuare a cercare massimi per minimo 24 giorni e siamo 19, in media 32 giorni e siamo sempre 19, al massimo 43 giorni. Per cui già con l'evoluta avete una cosa che con altre tecniche non avete il tempo. Sapete per quanto tempo ancora si può salire? Minimo 24-19, 5 giorni, con però strutture perfette all'interno dei sottocicli, ovvero ogni settimanale inverso e t-inverso deve essere composto da minimo 6 giorni, in media 8, al massimo 11. Per questo andiamo a fare la nostra scomposizione. oggi faccio molta didattica. Primo ciclo inverso, ok, disegniamolo così. Secondo ciclo inverso, che è arrivato a quanto tempo? Andiamo a controllarlo. E' andato, è arrivato a... Allora, da qui a qui abbiamo avuto il primo, giusto? 10 barre, questo è il massimo assoluto, 405, ok, perfetto. Il secondo è partito da questo massimo ed è arrivato fino a qui, ma la candela è rossa, quindi 8 barre, 9 barre, ok? Se la candela però facesse partire il terzo t-inverso, questa rossa, rimarremo a 8 barre, ok? E poi per arrivare a 24 ci servono 5 giorni. Se facessimo 2 giorni di discesa, adesso semplifico, o lateralità, ok? E poi ritornassimo sopra questo massimo, quanto amo quando c'è questa cosa inserita, ok? E poi ritornassimo sopra questo massimo, ci vincoleremo e continueremo a salire. Questa è l'ipotesi principale. Attenzione, tra un semestrale inverso fatto e finito e un semestrale inverso fatto e finito? Qui siamo a 92 barre e un semestrale inverso fatto e finito? No, e allora non vi parlerò dei raccordi. Perfetto, ci siamo tolti la rottura di scatole. Sì, scusate, si può fare in questo modo per esagerare il discorso. 102 giorni, siamo nei 96. Attenzione soltanto che qui ci può sempre essere un raccordo tra un semestrale inverso e un semestrale ciclo di 3 gradi inferiori, ovvero un T più 1 che, ma dato che comunque noi ci aspettiamo ancora un movimento, il primo T l'abbiamo fatto, il secondo T ci riporterebbe comunque su, non ci interessa neanche del raccordo, ok? Quindi l'aspettativa è questa, di lateralizzare per far partire il terzo settimanale inverso, se qui avremo la conferma su questo massimo a 4527,76 della chiusura del secondo settimanale inverso che ha tutte le condizioni per la sua chiusura. Poi, se rimarremo per almeno 48 barre da 15 minuti sotto questo massimo e poi torneremo sopra il massimo stesso, e se magari violeremo anche uno swing di inverso sarebbe il massimo, sapremo che continueremo a salire per andare a chiudere questo movimento rialzista. E a quel punto però dobbiamo fare estremamente attenzione da lunedì, non questo, ma quello successivo in avanti. Perché? Perché avremo la condizione necessaria e sufficiente per chiudere tutta questa struttura e iniziare a scendere. Questo è semplice, ok? Soltanto guardando l'inverso. Torna anche l'altro indice. L'altro indice abbiamo 1. Siamo arrivati a 188 barre, ok? 188 barre, siamo già vicini a un ciclo annuale. Dato che siamo vicini a un ciclo annuale da cui può essere partito, un ciclo più grosso ovviamente, ma perché è terminato un ciclo biennale e ne può essere partito un altro. Molto semplice, ok? Se tornate indietro, chiuso ora di un biennale con raccordo perfetto tra un biennale e l'altro e partenza di un altro biennale. Eccoci qua. Attenzione tra l'altro che massimi raggiungeremo, eh? Ok. Per il resto vi faccio vedere la centratura ciclica a livello daily. Qui per noi sarebbe più comodo far partire l'ultimo t settimanale, comodo tra virgolette, ma eventualmente vedrò se nel gruppo premium che coordino con oltre, no non lo dico quanti siamo, siamo tanti, se qualcuno avrà un'idea differente ovviamente l'ascolterò per capire se ci sta a livello ciclico oppure se va rivista, oppure se ci servirà come spunto per ragionare sulle regole di questo metodo statistico-matematico che porta a dei risultati che potete vedere come ribadisco. E con trade dati dal vivo, ok? Dal vivo. Anche su canali non miei. Direi che è tutto, vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata, la mia lo sarà sicuramente perché tra poco se non sbaglio vi parlerò di Ethereum. Arrivederci! Grazie!